Con riferimento all'articolo 17 dello statuto consortile, ovvero quello riferito al consorzio di bonifica di Roccella Caulonia, che prevede che il Consiglio dei Delegati è composto da 16 consiglieri, di cui 15 eletti dall'Assemblea dei Consorziati, e uno membro di diritto in rappresentanza dei comuni ricadenti nel comprensorio, designato dai sindaci dei comuni e sul territorio in cui ricade almeno un decimo del perimetro consortile. È stata convocata un'assemblea dei sindaci rappresentanti comuni, che hanno dovuto eleggere il loro rappresentante. Dopo una discussione attenta e anche dialettica, hanno deciso di eleggere in unanimità il sindaco di Sant'Ilario, Giuseppe Monteleone, che ora rappresenterà i sindaci locridei in seno all'Assemblea consortile. Ora, fra 15 giorni, ci sarà l'elezione del nuovo presidente. Tra i candidati c'è anche il presidente uscente. Il Consorzio di Bonifica al Torino Reggino, lo ricordiamo al momento, è guidato dal commissario l'ingegnere Pasquale Brizzi, che comunque sarà uno dei prossimi candidati alle elezioni che si terranno, come dicevamo, fra 20 giorni.